L'armonia delle diversità rappresenta una sfida fondamentale in Papa Nuova Guinea. Le prime parole di Papa Francesco nel paese. Stop alle violenze, il monito di Bergoglio. Nei prossimi giorni il vescovo Monsignor Cornacchia è in viaggio verso l'Australia per incontrare molfettesi legati alla Madonna dei Martiri. E proprio a Molfetta c'è clima di festa. Dopo importanti interventi di riqualificazione torna a splendere lo spazio antistante la Basilica. A Bisceglie seconda giornata di lavori per Digiton 2024 in corso fino a questa sera. Ieri si sono alternati Michele Emiliano e Matteo Piantedosi. Le miniere di Bauxite a Spinazzola riaprono al pubblico con visite regolarmentate per tutelare il fragile ecosistema. Dopo un lungo intervento di recupero. Signori buonasera e benvenuti alla seconda edizione del telegiornale di Teledeon. Nel primo dei discorsi ufficiali del suo viaggio in Papua Nuova Guinea. Papa Francesco ha ricordato alle autorità la responsabilità che deriva dalla straordinaria ricchezza culturale e ambientale dell'arcipelago. Da utilizzare per promuovere il benessere di tutti, nessuno escluso. Ascoltiamo i dettagli. L'armonia delle diversità rappresenta una sfida fondamentale per i valori spirituali in Papua Nuova Guinea. Un paese composto da un arcipelago con centinaia di isole, oltre 800 lingue e numerosi gruppi etnici che insieme formano una straordinaria ricchezza culturale affiancata da risorse naturali. Le diverse comunità locali possono offrire un messaggio di fraternità al mondo. Si riconoscono la grande responsabilità che deriva da tale patrimonio e si dedicano a realizzare uno sviluppo sostenibile ed equo che favorisca il benessere di tutti senza escludere nessuno, fermando al contempo le violenze tribali che oltre a causare molte perdite umane impediscono la pace e ostacolano il progresso. Questo è il messaggio che Papa Francesco ha rivolto alle autorità della Papua Nuova Guinea durante un discorso a circa 300 leader politici, religiosi, ambasciatori, imprenditori e rappresentanti della società civile e culturale. Si tratta delle sue prime dichiarazioni pubbliche nel paese. Per il Papa, per raggiungere risultati duraturi, è necessaria la stabilità delle istituzioni e un consenso su decisioni fondamentali, elementi essenziali per uno sviluppo integrale e solidale. Tuttavia, questo, ha affermato, richiede una visione a lungo termine e un clima di collaborazione tra tutte le parti coinvolte. Monsignor Domenico Cornacchia è in partenza verso l'Australia per i festeggiamenti in onore della Madonna dei Martiri. Nella comunità australiana, infatti, è numerosa la presenza dei molfettesi legati alla devozione verso la Vergine Maria. Ascoltiamo le parole del Bescovo. Con la festa della Madonna dei Martiri, l'Otto, io inizio questo pellegrinaggio, mi piace dire, un pellegrinaggio sulle orbe dei nostri antenati che si sono mossi dalla fine dell'Ottocento addirittura verso questo grande, immenso paese che è l'Australia. Mi attendono. Così come io sono in ansia, sono davvero molto felice e curioso anche di vedere questi nostri fratelli, queste nostre sorelle che per necessità hanno dovuto lasciare questa terra che loro continuano però a portare nel loro cuore, che continuano ad amare. L'altro giorno è venuto un nipote, pensate, un nipote di un emigrato, di un molfettese che è partito nel 1927 per l'Australia e abbiamo parlato solo molfettese. Si comprende bene anche l'italiano però loro si esprimono in un molfettese storico e loro con le lacrime agli occhi mi attendono, davvero. È una cosa molto emozionante. Io vado anche sulle orbe dei miei predecessori. 41 anni fa esattamente, nell'83, è stato il venerabile Don Tonino Bello, proprio alla fine di settembre, il primo di ottobre, lì per due settimane. Poi è stato anche, su eccellenza, Monsignor Martella. Io starò meno giorni, starò appena una dozzina di giorni tirato di qua e di là. Però voglio portare i vostri saluti, la vicinanza affettiva, qualche ricordino porterò anche alle loro famiglie. Ciò significa che la distanza fisica, geografica, conta relativamente poco. Ciò che conta è la passione, ciò che conta è l'affetto, l'amore. Ebbene, anche a distanza di migliaia di chilometri ci sentiamo una sola famiglia. E chi ci permette di vivere questa gioia è solo lei, Maria, la regina dei martiri. Dopo importanti interventi di riqualificazione, ieri è stata consegnata alla città di Molfetta la nuova piazza Madonna dei Martiri. Il servizio. Il clima di festa a Molfetta che accompagna la voglia di rivivere la nuova piazza Madonna dei Martiri. Dopo importanti interventi di riqualificazione, infatti, torna a splendere lo spazio antistante la Basilica. La consegna alla città della piazza intitolata la compatrona e la sua inaugurazione scrivono una pagina importante della storia di Molfetta, stretta in un abbraccio a riscoprire il senso autentico dell'essere comunità, in una serata indimenticabile che anticipa l'inizio della festa patronale. I greci e i romani ne sottolineavano l'importanza della piazza, della gorà, della civitas. Qui finalmente, da periferia denigrata, diventa sempre più una periferia che si esalta, che diventa centro non solo spirituale, ma centro di accoglienza e dello stare insieme. Perché nel mondo di oggi le solitudini che stanno in ciascuno di noi devono trovare i luoghi del scambio della relazione. E questa è la cosa più importante. Quindi cose fisiche che diventano cose importanti, cose finite che diventano l'infinito. Operai, tecnici, amministratori e cittadini protagonisti sul sagrato della Basilica Madonna dei Martiri, della rinascita di una piazza che volge lo sguardo all'infinito e da secoli rappresenta il faro per tanti marinai. Comprendiamo tutti che non sarà stata un'impresa facile perché mettere insieme tanti progetti, tanti soldini anche e tante precedenti non è stato facile. Però sicuramente la festività, la solennità di quest'anno della Madonna dei Martiri viene coronata da questo progetto. Noi siamo davvero grati, non possiamo che essere felici per questa bella opera. E io mi auguro che venga usata, valorizzata e soprattutto rispettata. Oggi in questa giornata vogliamo davvero rendere grazie a lei che ci permette innanzitutto di abitare questo spazio e poi davvero a tutta l'amministrazione comunale per aver reso possibile e aver realizzato questo spazio destinato appunto a varie attività non soltanto all'incontro, alla relazione ma soprattutto alle celebrazioni a vari eventi che si svolgeranno appunto in questo tempo, in questo spazio. Voltiamo pagina intensa, seconda giornata di lavori per Digiton 2024. La più grande maratona digitale italiana in corso fino a questa sera a Bisceglie. Ieri si sono alternati il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Ascoltiamo i servizi di Alba Di Palo. L'innovazione tecnologica per aiutare a oleare i bulloni spesso lenti della burocrazia l'intelligenza artificiale per agevolare i cambiamenti di città, regioni e di un intero paese ne è convinto il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano che ha partecipato a uno degli incontri inseriti nel cartellone di Digiton la maratona digitale che aiuta e stimola l'innovazione perché, ha spiegato il presidente, Digiton la maratona di Bisceglie è importante per la regione che si sta muovendo sull'intelligenza artificiale. Pensiamo che questo fenomeno vada seguito e che l'intelligenza artificiale applicata alla pubblica amministrazione costituisca un elemento non solo per diminuire gli errori, accelerare le procedure ma anche di legalità e di trasparenza perché è evidente che uno strumento che predispone le istruttorie degli atti amministrativi e suggerisce possibili soluzioni diventa un punto di controllo da parte soprattutto della politica sulle burocrazie che consente poi di verificare il perché di una decisione amministrativa e fornisce tutti i dati necessari di una decisione politica. L'intelligenza artificiale diventa un faro a patto che ci siano precise regole. La nuova direttiva sull'intelligenza artificiale dell'Unione Europea è ovviamente un primo passo in una storia che sarà complicata quella di cercare di costruire una normativa mondiale che consenta all'intelligenza artificiale di essere gestita secondo le nostre regole giuridiche, morali e di convivenza civile perché è uno strumento potente che ovviamente potrebbe anche provocare grossi danni alle persone. Usare la tecnologia per proteggere le istituzioni formare professionalità capaci di lavorare a supporto e a difesa dello Stato e quanto ha fatto negli ultimi mesi il Ministero dell'Interno che ha rinfrescato l'architettura istituzionale da un punto di vista tecnologico. A dirlo è stato il titolare del Viminale, Matteo Piantedosi, intervenuto a Digiton. La moratona dedicata alle start-up è ospitata dalla città di Biceglie. Il Ministero dell'Interno sta cercando di fare di tutto per essere al passo con quelle che sono le esigenze di tutto ciò che passa sul digitale e sulla rete a delle infrastrutture proprie, insomma, delle articolazioni molto importanti. Ho citato la direzione centrale della Polizia Scientifica e della Polizia Postata, il centro del contrasto al crimine informatico. Stiamo cercando di fare in modo che sia, come dicevo, tutto questo sempre più un'opportunità e non un elemento di preoccupazione. Per Piantedosi riuscire a creare sistemi con l'intelligenza artificiale attingendo ai big data di cui dispongono le forze di polizia o attori istituzionali potrebbe semplificare la prospettiva d'indagine ed è una grande scommessa. Per questo iniziativo e come Digiton sono importanti per diffondere la cultura legata alle nuove tecnologie. Mi compiaccio per questa iniziativa la presentazione delle start-up ma anche il contributo più in generale alla diffusione della cultura del digitale che è sempre qualcosa che crescerà nella nostra società e come si vede qui dalla presentazione delle start-up, come ho detto, riguarda soprattutto i giovani. Tutta l'Italia colorerà i monumenti più importanti di verde per celebrare la 17esima giornata nazionale sulla SLA. I dettagli nel servizio di Antonella Filanino. Centinaia di monumenti italiani si illumineranno di luce verde nella vigilia della 17esima giornata nazionale SLA che si celebrerà domenica 15 settembre. Una luce di speranza per la ricerca. La giornata nazionale SLA nasce con l'intento di ricordare il primo sit-in dei malati di SLA quando i volontari dell'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica si riunirono in piazza a Roma il 18 settembre del 2006 per sensibilizzare le massime istituzioni al fine di favorire un'appropriata gestione della malattia e un'adeguata presa in carico. Da allora, ogni anno, tra la metà di settembre e la prima settimana di ottobre, si rinnova quello stesso desiderio. In questo anniversario, nello specifico, si chiede l'impegno per l'autodeterminazione di ogni persona, per il riconoscimento dei diritti di ciascuno e per la promozione dell'utilizzo della tecnologia con lo scopo di migliorare la qualità della vita. L'appuntamento di sabato 14 settembre è alle ore 20 davanti al Monumento Illuminato della città più vicina. La lista dei comuni che parteciperanno alla tradizionale iniziativa è in costante aggiornamento sul sito di Aisla. In quella stessa occasione, sarà possibile acquistare una box di vini, partecipando dunque alla campagna un contributo versato con gusto e sostenere il progetto Operazione Sollievo, con l'obiettivo di sostenere concretamente i malati di Isla e le loro famiglie. Le miniere di Bauxite a Spinazzola riaprono al pubblico con visite regolamentate per tutelare il fragile ecosistema dopo un lungo intervento di recupero. Antonella Filannino Dopo i lavori di riqualificazione, il Parco Nazionale dell'Alta Murgia avvia le visite regolamentate alle miniere di Bauxite in zona A di Riserva Integrale. Gli interventi di recupero del gioiello naturalistico e archeologico di Spinazzola in provincia di Barletta, Andiatrani hanno riguardato la messa in sicurezza dei versanti in erosione, la riqualificazione degli habitat naturali, favorendo la tutela di uccelli, rettili e piccoli mammiferi che qui hanno trovato casa. Inoltre sono stati predisposti punti di osservazione e aree didattiche per i visitatori, al fine di immergersi nel paesaggio e scoprirlo al meglio, senza danneggiare l'ambiente circostante. Le visite alle miniere di Bauxite si terranno dal venerdì alla domenica, sia al mattino che al pomeriggio. L'accesso al sito sarà gratuito, a carico dell'ente Parco, a eccezione delle visite con guide specializzate, per le quali è previsto un costo aggiuntivo. La gestione dei tour è stata affidata all'associazione di promozione sociale Proloco Torre Pino di Spinazzola. L'avvio di una gestione regolamentata, ha spiegato il presidente del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Francesco Tarantini, rappresenta un passo decisivo nella salvaguardia del nostro patrimonio ambientale. Vogliamo assicurare che le miniere di Bauxite possano essere visitate in modo responsabile, valorizzando il loro valore naturalistico e culturale, senza comprometterne l'integrità e la biodiversità che le caratterizzano. In Puglia aumenta il numero dei passeggeri negli aeroporti. Ad agosto è registrato il 13,1% in più rispetto al 2023. Sentiamo. Ancora in crescita il numero dei passeggeri negli aeroporti pugliesi. Ad agosto, infatti, i passeggeri in arrivo in partenza dagli aeroporti di Bari-Brindisi sono stati oltre 1.225.000 in crescita del 13,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Di questi, quasi 830.000 i passeggeri di Bari più 16,5% e 399.240 quelli dell'aeroporto di Brindisi. più 6,6%. A comunicare questi numeri è aeroporti di Puglia. Positivo il dato riferito alla linea internazionale che sui due aeroporti ha registrato 666.000 passeggeri tra arrivi e partenze con un incremento del 22,1% rispetto ad agosto 2023. Buono il dato dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia dal quale ad agosto sono transitati 6.531 passeggeri in crescita dello 0,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno quando i passeggeri erano stati 6.482. Proseguirà anche in questo weekend Ninfea il Festival della Rigenerazione sulle rive del Lago Grande di Monticchio in provincia di Potenza. Nel servizio le interviste ad alcuni dei protagonisti dello scorso appuntamento. Rigenerazione territoriale e sviluppo sostenibile questi due macro temi al centro di Ninfea Festival l'evento che si sta svolgendo sulle rive del Lago Grande di Monticchio in provincia di Potenza. L'atmosfera suggestiva è quella della spiaggia delle Ninfee sfondo di workshop di battiti e performance artistiche. Lo sguardo è teso sul destino e il futuro dei nostri borghi. Le storie che noi raccontiamo non sono semplici storie di bellezza di luoghi belli o di persone che hanno fatto qualcosa di interessante sono storie che generano economia. La cosa bella è che stanno aumentando sempre di più Generazione Bellezza a la maiuscola Generazione sono persone che agiscono si danno da fare smettono di lamentarsi e generano un nuovo sogno una nuova economia per sé e per gli altri. Le opportunità di questi territori sono enormi e stanno nella loro identità nella capacità di tornare a coltivare alcune attività manifatturiere e artigianali. C'è la grande risorsa delicata da gestire del turismo però non bastano le opportunità. Le opportunità hanno senso soltanto se in qualche modo poi c'è una politica capace di cogliere. L'evento con nuovi ospiti è in programma anche per questo weekend l'intero calendario delle iniziative è stato promosso dal labirinto visivo Onirica e Archeoclub del Vulture in collaborazione con tante altre realtà locali nell'ambito del progetto Borgo Monticchio finanziato dal programma Next Generation dell'Unione Europea un progetto che guarda alla natura in tutta la sua bellezza. La matematica è uno strumento che si aggiunge a quelli che noi già abbiamo per apprezzare appunto la bellezza di ciò che ci circonda noi in genere usiamo i sensi soprattutto la vista ma anche gli altri sensi e la matematica è una specie di sesto senso tra virgolette che ci dà degli strumenti in più sono numeri come cinque numeri di fibonacci per esempio che compaiono nella disposizione delle foglie e così via ce ne sono tantissimi in questi aspetti e la matematica appunto è semplicemente uno strumento che ci spalanca questa finestra. Si chiude qui anche questa seconda edizione del telegiornale di Teledeon vi ringrazio per l'attenzione vi lascio in compagnia dei programmi della nostra rete buona serata di Teg di Teg di Teg di Teg Grazie a tutti.